Siamo molto felici di avere la migliore opportunità di invitare oggi qui con noi i manzauri. Credo proprio che nel caso non ci siano che cose giuste e cose sbagliate. Non esistono i metodi. Esistono, secondo me, le idee. Esistono i programmi che ne ho avuto. Per due tempi. Top e passo. Top e passo. Pronti? Vai. Uno. Due. Passa e vado. Perfetto. Apro. Sì. Lo stesso. Lo stesso. Tranquillo. Uno. Due. Passo e vado. Sì. Chi fa l'allenatore? Chi fa proprio dallo specifico? Magari il maestro della tecnica. Proprio come un artigiano. L'altro. Accompilated.